Ecco siamo alle tradizionali fiere di Sant'Agostino qui a Senigallia che si svolgeranno dal 27 che è oggi fino al giorno 30 e qui siamo nella zona del Foro Anonario e ora faremo un video di questa manifestazione ecco stiamo arrivando verso i portici Ercolano e ora facciamo un rapido giro qui sulla piazza ecco molte le bancarelle anche qui in piazza Simoncelli e ora ritorniamo per il corso ecco ci sono alcune bancarelle anche qui sul corso 2 giugno siamo di nuovo ai portici Ercolano ecco qui ci sono delle bancarelle anche lungo i portici ecco qui abbiamo i tradizionali cannoli siciliani ecco qui ci sono alcune bancarelle anche qui ecco la mia città ecco qui c'è 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 la mia città costiamo per arrivare in fondo ai portici Ercolani qui su via Ercolani e ora andremo verso piazza Garibaldi ecco ora andremo verso la piazza ecco che stiamo per arrivare in piazza Garibaldi eccoci sulla piazza eccoci sulla piazza ora ci trasferiremo verso piazza Saffi siamo arrivati di fronte al teatro e ora andremo verso piazza Saffi vediamo in fondo le bancarelle eccoci qui in piazza Saffi qui abbiamo il Biscilla Bistrò qua siamo di fronte al Bar Saffi e ora proseguiremo verso sinistra ecco siamo di fronte al Blue Bike accessori per biciclette ecco con queste immagini di queste bancarelle terminiamo questo video iscriviti al nostro coro eccoci a 我